Quando Icone ha colpito il palo, credetemi, credetemi, ho pensato tra me e me, discorso internos, quelle cose che vai ad articolare con il tuo alter ego, ho pensato, se gli va bene alla Fiorentina finisce a 0-0, se gli va bene, non è andata bene. A me piace parlare di calcio anche argomentando con numeri, dati, statistiche, cifre, poi però ti devi andare a confrontare con queste partite qua e quando ci sono queste partite qua, ancora una volta scopriamo che il calcio è qualcosa di particolare, ogni volta ti tira fuori delle robe incredibili. Resta la prestazione maestosa, mi è piaciuta tantissimo la Fiorentina, un primo tempo proprio della Fiorentina, ma da squadra vera, da squadra vera mi è piaciuto tantissimo il calcio anche nel secondo tempo, anche se poi alla lunga c'è calato un po' l'intensità, è anche giusto, anche logico, e poi se tiene in vita la Juve, se tiene in vita la Juventus di Massimiliano Allegri che poi mi dovranno dire sto signore qua, chi ha, quale forza soprannaturale ha per indirizzare queste partite come fa, ditemelo voi cortesemente, se la tiene in vita come dicevo io, in un modo o nell'altro, capita quello che è accaduto stasera. Ne parliamo, prima vi voglio invitare a lasciare un like, iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti e perché no scaricare OneFootball per aggiornarci, magari non sulla coppietaria perché il ritorno si giocherà fra un mese e mezzo, però ci sono altre competizioni, altre partite interessanti, Serie A, Champions, la vostra squadra del cuore, quindi varie news, è un aggregatore di notizie, quindi trovate di tutto di più ed è tutto gratuitamente, link in descrizione, oppure QR code per portarla all'interno del vostro smartphone, come dico sempre. Detto ciò, partiamo dall'inizio, rewind, rewind, era la partita un po' di Vlaovic, sicuramente il giocatore era sotto una lente di ingrandimento, lo è sempre Vlaovic, ormai lo è sempre, specialmente se parli di Uve, ma poi aggiungiamoci che ritornava l'altremio Franchi, ebbene sì, ebbene sì, ragazzi miei, ebbene sì, abbiamo ovviamente attenzionato il ragazzo, tanti, tanti fischi, assordanti, cioè ancora gli doveva arrivare la palla, già era fischiato, veramente assordante il pubblico, ma questo onestamente per quel che mi riguarda ci può anche stare, sta per parlare Massimo Danello, io volevo stoppare, questo ci può anche stare, quello che gradisco meno, anzi quello che non tollero, mi corrego e chiedo scusa, perché questo è anche grave quello che ho appena, no quello che gradisco, quello che non tollero, sono i soliti e inutili e insursi e osceni, core razzistiche, non mi venite a dire che non ci sono state, perché basta andare a vedere un po' i video nel pre-gara, quando i giocatori si sono affacciati un pochettino, ci sono state, e come, ma poi a me non interessa se si tratta di cento, mille o uno, chiunque sia, per me, è qualcosa di, ripeto, di avanti Cristo, stiamo parlando di qualcosa che è veramente lontano ed è imbarazzante, ma imbarazzante più per la figura che, più per chi, più per chi, anziché chi riceve, più per chi, più per chi, agisce, anziché riceve, ed è imbarazzante, detto questo, detto questo, nel primo tempo, ha toccato pochissimi palloni, la Juventus nel primo tempo non si è mai affacciata, non si è mai affacciata, se non in un tiro sporco dello stesso blouch, stop, solo viola in campo, nel primo tempo strepitosa la manovra, il gioco, la facilità con cui si arrivava anche in porti, i pericoli creati, tantini, quello di buona avventura, praticamente a porta vuota, quello, sì, è un errore di Perin, ma nasce sempre dalla pressione della viola, nasce sempre da come l'allenatore vuole aggredire l'avversario, quindi ancora una volta ribadiamolo, c'è questo signore che si chiama Italiano, o meglio il cognome, Italiano, che fa veramente tanto calcio, fa veramente tanto calcio, è incredibile, e poi, questo ragazzo iconei, ragazzi miei, sarà perché, se guardo il parco giocatori della mia squadra del cuore, l'Inter, sarà perché una delle abilità che a noi manca è il saltare l'uomo con facilità, creare superiorità numerica, perché l'Inter se non sbaglio è la quint'ultima squadra per dribbling effettuati, quindi troppo numeri alla mano, come vi dicevo prima, i numeri mi piacciono, però poi sono indicativi se valuti il percorso e non la partita singola, sto iconei, ragazzi, è incredibile, e mette in panchina uno come Nicolo Gonzalez, che è stato un investimento importante, ma lo metterà in panchina, o comunque dovrà giocare sull'altra fascia, non lo so, perché iconei, questo ragazzo, se lima quella che è la capacità realizzativa sottoporta, crack, cioè giocatore devastante, il controllo di tacco, come ha detto il telecomunista alla Cassano, veramente alla Cassano contro l'Inter, ricordato, clamoroso, anche questo ha fatto una roba clamorosa, per come se l'ha portato avanti, poi anche magari se vogliamo fortunoso nel dribbling, ma lo tenta, lo tenta, lo tenta sempre, lo tenta sempre, e poi ha tirato anche bene, non sono d'accordo con Trevisani, no, ma no, ha tirato anche bene, forse ha tirato troppo bene, perché voleva angolarla troppo, bastava anche meno angolo, meno precisione, ma resta un'azione incredibile, ma anche nel primo tempo, ha avuto l'altra occasione, quando, ripeto, sulla fascia parte, ti fa quelle movenze, decine, non ce l'ha fatto, non ci ha capito nulla, ma poi la Fiorentina entra, entra in tanti modi, e ha tante soluzioni per farlo, anche qualità centrocampo, come diciamo prima a Buonaventura, Castrovilla è cresciuto, e quindi ha qualità, ha qualità importante la Fiorentina, e ripeto, a me piace il calcio incredibile che fa. La Juventus alla lunga è riuscita ad assorbire in qualche modo i colpi della Viola, e questa è un po' fortuna bravura, fortuna slash underscore bravura delle squadre di Allegri, se vogliamo, quando ci riescono, quelle di assorbire i colpi e di rimanere in vita, è rimasto in vita, e poi nel secondo tempo qualche soluzione e qualche offensiva l'ha anche creata, una su tutti, mi ricordo il primo pericolo, quello di Vlaucci, chi? Sempre lui, Vlaucci, anche nella partita dove veramente tocca pochi palloni, e mi piange il cuore, cioè uno come Vlaucci, mi piange il cuore, perché dovrebbe essere continuamente, costantemente assistito, perché gli basta mezza palla per creare un pericolo, mezza palla, e se diventi inoffensivo lui, perché veramente palloni manca a morì ne arrivano, manca a morì, e ha fatto una lotta incredibile con Igor, e quando gli lancia quella palla lunga è riuscito anche a battagliare in una circostanza, ottima lotta, se è riuscito a divincolarsi e voleva fare il tocco sotto, avesse fatto anche quel gol, ragazzi miei, parliamo veramente di un giocatore che, come dicevo prima, con mezza palla, questo te la mette dentro, è qualcosa di incredibile, comunque anche nell'assist a quadrato, perché poi due occasioni avuto la ripresa su quella, e l'assistenza a quadrato, con i tempi giusti, quadrato lì è stato egoista, ha provato il tiro sul primo palle, non l'accederà, però se vogliamo parlare di Vlaus, cosa pretende di più, cosa pretende di più da sto ragazzo, la Fiorentina che poi è mancata qualche energia nel finale, ha continuato a fare il suo calcio, non si è snaturata, e ha subito quella situazione che spesso accade quando c'è la Juventus in campo, perché in qualche modo rimangono in vita, e quadrato ha messo una palla in mezzo, poi venuti, ha fatto autogol, cioè solitamente chi è predisposto a subire un autogol, chi gioca sempre nella propria varietà di rigore, oggi succede il contrario, ecco perché alcune volte dico, ma veramente cerchiamo di analizzare alcune situazioni, ma poi che vuoi analizzare, capita il contrario, perché solitamente chi si difende, se tu la metti in mezzo, a furia di dalle, 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 può capitare l'autogol, invece è capitato dall'altro lato, è quasi inspiegabile, poi un giocatore anche fresco, magari posizionato male, magari questo sì, perché altrimenti lì magari non lo fai l'autogol, però cosa vogliamo dire? ripeto, io ho visto un'ottima Fiorentina, ma quello che conta è il risultato, 1-0 all'Artemio Franchi per la Juventus, non dico che sia qualificazione, ma quasi, perché con la regola del gol fuori casa, che in Coppa Italia vale, lì praticamente deve la Fiorentina, all'Allianz dovrebbe fare un gol per pareggiare se non subisce, altrimenti ne deve fare due, diventa molto molto difficile, anche se poi, come diciamo sempre, da qui a un mese e mezzo può succedere tutto ed è inutile fare anche troppi calcoli, ragazzi, va bene, e fatemi sapere cosa ne pensate voi, se volete commentate, legate e iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, ciao